no signora non puoi dire che io i peni non ne posso dire lei cucciolino non ne ha visto mai i peni no io lei si non vuoi capire le cose ma però se si innamorano di lei c'è motivo no? io si innamorano io mi innamorano chiaro ma uno e adesso sono innamorata anche io certo non era un po' più chiaro di stamanea quando ero amica è moccata la vita ma piacere a me ma scusa lei non per sapere l'età quando anni c'è a lei perché hai ancora i giorni della signora la signora dice che i peni non ha visto io come i peni l'ha visto i peni i peni no ma frate cosa facciamo uno straziato uomo che gli è straziato perché c'è il cattucco vabbè ma sempre soffrati eh signorina eh signorina mi scusa e come per me mi mostro un picciolito magari e poi mia mamma come gli ha detto ci sono due occhi ma lei vuole che signorina e signorina e signorina e signorina e signorina e poi e poi e poi non so bene che mi ha pagato io non so bene che mi ha pagato io non so bene che mi ha pagato ma io non so bene che mi ha pagato a me non so bene che mi ha pagato a me non so bene perché in questo mondo non c'è niente ma io non so bene che mi ha pagato ma io non so bene che mi ha pagato a me non so bene che mi ha pagato ma lei signorina lei signorina quando finisce che ci puntiamo da sopra signorina 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 ma appunto hai bisogno di essere qui certo si però non si fa chiesto ma cominciassi a fare secoccare dopo l'amore sa fare dopo si ingociuriata non lo faccio comunque ingociuriata si fa una doccia assieme come andate dentro come andate dentro signorina dopo la spesa ci vuole